ehi pirati scalmanati come andiamo riserviamo questa guida agli amanti delle onorificenze una delle onorificenze relativa alla stagione 13 riguarda la vendita di ben 20 spade di flame art con almeno tre rituali facendo un piccolo ripasso per ottenerla vi basterà osservare sulla mappa una burning blade che abbia almeno un numero di rituali a 3 o superiore e pertanto in possesso di giocatori tuttavia e purtroppo in questo periodo questo evento è davvero snobbato dai players come se fossero annoiati da questo sistema di gioco che dovrebbe essere votato al pvp e invece tenda al pwe pertanto è assai complesso trovare giocatori che abbiano preso possesso della burning blade ma noi vi mostreremo un metodo alternativo che non amiamo ma che al momento sembra essere l'unico modo per ottenerlo consigliato soprattutto per i solo sloopers tutto ciò che dovrete fare è trovare una bb in possessarvene e compierei i tre rituali richiesti per alimentare la spada fatto questo recate via il mititore e affondate letteralmente la vostra bb che vi lascerà la spada con tre rituali non dovrete fare nient'altro che vendere la flame art prima di concludere ci teniamo a dire che non siamo assolutamente soddisfatti di questo metodo e purtroppo dato il periodo particolare per sot che vede sempre meno giocatori ci troviamo costretti a divulgarlo speriamo che con la stagione 14 possa tornare a risplendere un saluto a tutti i pirati scalmanati che continuano a seguirci sui nostri social di discord e facebook a presto ciao 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 ciao